Liberty Bar di Georges Simenon, seconda parte. Le strade erano illuminate. Maigret ebbe qualche difficoltà a ritrovare il garage, dove voleva chiedere ancora un'informazione. A che ora è venuto Brown a riprendere la macchina venerdì? Fu necessario chiamare il meccanico. Alle cinque meno qualche minuto. Quindi aveva avuto appena il tempo di tornare a Cap d'Antibes. Era solo? Non c'era nessuno fuori che lo aspettava? E lei è sicuro che non fosse ferito? William Brown era uscito dal Liberty Bar verso le 2. Che cosa aveva fatto in quelle tre ore? Maigret non aveva più nulla da fare a Cannes. Aspettò l'autobus e si sprofondò in un sedile d'angolo, guardando distrattamente la strada statale dove le macchine, con i loro fari accesi, formavano un corteo senza fine. Quando scese dall'autobus in Plas-Massé, la prima persona che vide fu l'ispettore Boutique. Era seduto a un tavolino del Café Glacier e si alzò di scatto. La stiamo cercando da stamattina! Si accomodi, cosa prende? Cameriere, due per no. No, grazie. Io vorrei un'agenziana, disse Maigret, che voleva provare il gusto di quel liquore. Per prima cosa ha interrogato i tassisti. E dato che nessuno l'aveva vista, mi sono rivolto ai conducenti degli autobus. E così ho scoperto che lei era andato a Cannes. Parlava in fretta e come si infervorava. Maigret lo guardava a suo malgrado con gli occhi sgranati, ma l'ispettore continuò imperturbabile. Ci sono solo cinque o sei ristoranti in cui si mangia decentemente. Ho telefonato a tutti. Ma dove diavolo ha pranzato? Boutique sarebbe stato molto sorpreso se Maigret gli avesse detto la verità. Se gli avesse parlato del cosciotto d'agnello e dell'insalata all'aglio nella cucina di Jaja, dei bicchieri di whisky e di Sylvie. Il giudice istruttore non vuole prendere nessuna iniziativa senza prima averla consultata. E ci sono delle novità. È arrivato il figlio. Il figlio di chi? Maigret fece una smorfia perché aveva appena bevuto un sorso di genziana. Il figlio di Brown era ad Amsterdam quando... A Maigret era venuto un gran mal di testa. Cercava di concentrarsi ma gli costava molta fatica. Brown aveva un figlio? Più di uno li ha avuti dalla sua vera moglie che vive in Australia. Uno di loro sta in Europa e si occupa della lana. Quale lana? In quel momento Maigret fece probabilmente una pessima impressione a Boutique. Ma il commissario era ancora al Liberty Bar. Più esattamente, stava cercando di evocare l'immagine del cameriere che giocava alle corse e a cui Sylvie aveva detto qualcosa dalla finestra. Ma sì, i Brown sono i più grossi proprietari terrieri di tutta l'Australia. Allevano pecore ed esportano la lana in Europa. Uno dei figli si occupa degli allevamenti. Un altro a Sydney delle spedizioni. Il terzo, quello che sta in Europa, gira sempre da un porto all'altro. Liverpool, Le Havre, Amsterdam o Hamburgo, a seconda della destinazione della lana. È lui che... E che cosa dice? Che bisogna seppellire suo padre appena possibile e che pagherà lui. Ha molta fretta. Domani sera deve riprendere l'aereo. È qui ad Antibes? No, a Joan Le Pen. Ha voluto un grande albergo con un appartamento tutto per lui. Mi hanno detto che gli serve il collegamento telefonico con Nizza per tutta la notte. Così può chiamare Anversa, Amsterdam e non so che altro ancora. Ha visitato la villa? Gliel'ho proposto ma ha rifiutato. E allora che cosa ha fatto? Si è incontrato con il giudice e basta. Ha insistito perché tutto si concluda al più presto e ha chiesto quanto verrà a costare. Che cosa? Tutta la faccenda. Maigret guardava la plasma a sé con aria assente. Butighe continuava a parlare. Il giudice l'ha aspettata nel suo ufficio per tutto il pomeriggio. Ora che l'autopsia è stata fatta deve per forza consentire l'inomazione. Brown figlio ha telefonato tre volte e alla fine gli hanno detto che il funerale si farà domani mattina molto presto. Molto presto? Sì, per evitare i curiosi. Per questo la stavo cercando. La barra verrà chiusa stasera. Quindi se vuole vedere Brown prima che... No, no davvero. Noigret non aveva nessuna voglia di vedere il cadavere. Ormai conosceva abbastanza William Brown. Il caffè era pieno di gente. Butighe notò che molti degli avventori li guardavano, cosa che in fondo non gli dispiaceva affatto. Tuttavia, mormorò. Parliamo a voce più bassa. Dove sarà sepolto? Ma al cimitero di Antibes. Il caro funebre starà davanti all'obitorio domattina alle sette. Ormai devo solo dare una conferma al figlio. E le due donne? Non è stato deciso niente. Forse il figlio preferirebbe... In che albergo mi ha detto che alloggia? Al Provençal. Vuole vederlo? A domani, disse Maigret. Lei verrà al funerale, immagino. Era di un umore strano, allegro e al tempo stesso funereo. Un taxi lo portò all'hotel Provençal, dove fu accolto da un portiere, quindi da un fattorino con la livrea gallonata e infine da un giovanotto magro in abito nero, appostato dietro una scrivania. Il signor Brown? Un momento, vedo se può riceverla. Vuol dirmi il suo nome, prego? Squillarono vari campanelli, mentre il fattorino andava e veniva. Passarono almeno cinque minuti prima che qualcuno venisse a prendere il commissario e lo accompagnasse, attraverso interminabili corridoi, fino a una porta contrassegnata dal numero 37. Dall'interno giungeva il ticchettio di una macchina da scrivere. Una voce irritata esclamò, avanti! E Maigret si trovò di fronte a Brown Junior, quello responsabile dei rapporti commerciali con l'Europa. Difficile dargli un'età. Poteva avere trent'anni ma forse anche quaranta. Un tipo alto e magro, dai lineamenti marcati, rasato di fresco, vestito in modo sobrio e impeccabile, con una perla appuntata sulla cravatta nera a righe bianche. Tutto in lui faceva pensare all'ordine e a una perfetta organizzazione, non un capello fuori posto, non un segno di emozione alla vista del visitatore. Permette un istante? Si accomodi. Una dattilografa stava scrivendo a macchina seduta a un tavolo Luigi 15, mentre un segretario parlava in inglese al telefono. Brown Junior finì di dettare un cablogramma in inglese, una richiesta di risarcimento d'anni a seguito di uno sciopero di portuali. Il segretario lo chiamò. Signor Brown? E gli porse la cornetta. Hello? Yes. Brown ascoltò a lungo senza dire una parola e alla fine, un attimo prima di riagganciare, tagliò corto. No. Suonò il campanello, poi chiese a Megre. Un porto? No, grazie. In quel momento comparve un cameriere e Brown ordinò comunque. Un porto. Faceva tutto con calma, ma con un'aria attenta, come se da ogni suo minimo gesto, dalla minima alterazione dei suoi tratti, dipendessi il destino del mondo. Vada a scrivere nella mia camera, disse alla dattilografa indicandole la stanza attigua. E al segretario. Telefoni al giudice istruttore. Finalmente si sedette e sospirò accavallando le gambe. Sono stanco. È lei che conduce l'inchiesta? Sospinse verso Megre il porto che il cameriere aveva servito. È una storia ridicola, non le pare? Ridicola proprio non direi, ribatté Megre in tono piuttosto brusco. Volevo dire seccante. Certo, è sempre seccante morire per una coltellata alla schiena. Il giovane si alzò di scatto, aprì la porta che dava nella stanza attigua, fece finta di dare degli ordini in inglese, poi tornò verso Megre porgendogli un portasigarette. Grazie, fumo solo la pipa. L'altro allora prese da un tavolino una scatola di tabacco inglese. Solo tabacco scuro, disse Megre tirando fuori dalla tasca il suo pacchetto. Brown si mise a camminare su e giù per la stanza. Lei sa, vero, che mio padre conduceva una vita molto... scandalosa? Aveva un amante? Non solo, c'è ben altro. Lei deve sapere, altrimenti rischia di commettere, come dite in francese, una gaffe. Fu interrotto dallo squillo del telefono. Il segretario accorse e rispose, questa volta in tedesco, mentre Brown gli faceva dai cenni di diniego. La telefonata andava per le lunghe e Brown cominciava a innervosirsi. Visto che il segretario non si decideva a tagliar corto, gli tolsi il ricevitore delle mani e riattaccò. Mio padre è venuto in Francia molto tempo fa, da solo, e ci ha quasi rovinati. Non riusciva a stare fermo. Sempre continuando a parlare, aveva richiuso la porta della stanza alle spalle del segretario. Indicò il bicchiere di porto. Non beve? No, grazie. Alzò le spalle con aria spazientita. Il tribunale ha nominato un curatore. Mia madre ha sofferto molto e ha lavorato tanto. Ah, è stata sua madre a rimettere in piedi l'azienda? Sì, insieme a mio zio. Il fratello di sua madre, evidentemente. Yes. Mio padre aveva perso... La dignità. Sì, la dignità. Quindi è meglio che non si parli troppo di lui, mi capisce? Maigret non gli toglieva gli occhi di dosso, il che sembrava esasperarlo. Tanto più che quello sguardo insistente era indecifrabile. Forse non significava nulla, o forse esprimeva invece una terribile minaccia. Una domanda, signor Brown. Harry Brown, a quanto vedo dalle sue valigie. Dove si trovava mercoledì scorso? Prima di rispondere, Harry Brown percorse un paio di volte la stanza in tutta la sua lunghezza. Crede forse che... Non credo proprio niente. Le chiedo soltanto dove si trovava. Ha qualche importanza? Forse sì, forse no. Ero a Marsiglia ad attendere l'arrivo del Glasgow, un mercantile carico di lana proveniente dall'Australia, che ora si trova ad Amsterdam, ma che non può scaricare per via dello sciopero dei portuali. E non ha visto suo padre? No, non l'ho visto. Un'ultima domanda. Chi versava un mensile a suo padre? E a quanto ammontava? Io. Cinquemila franchi. Vuole raccontarlo ai giornalisti? Si sentiva ancora il tichettio della macchina da scrivere, e alla fine di ogni riga il campanello seguito dall'urto del carrello. Magre si alzò e prese la bombetta. La ringrazio. Harry Brown rimase sbalordito. Non c'è altro? No, la ringrazio. Il telefono squillò ancora, ma il giovane non si curò di rispondere. Guardava incredulo Magre che si stava dirigendo verso la porta. Allora, esasperato, afferrò una busta sul tavolo. Avevo preparato per i fondi assistenziali della polizia? Magre era già nel corridoio. Poco dopo scendeva le scale sontuose e attraversava la hall preceduto da un fattorino in livrea. Alle nove cenava nella sala da pranzo ormai vuota dell'hotel Bacón, consultando l'elenco telefonico. Chiamò, uno dopo l'altro, tre numeri di Cannes. Al terzo finalmente qualcuno rispose «Sì, è qui vicino». «Perfetto. Vuol dire per favore a Gia Gia che il funerale si farà domattina alle sette ad Antibes?» «Sì, il funerale. Lei capirà». Si mise a camminare su e giù per la sala. Dalla finestra si vedeva, a 500 metri, la villa bianca di Brown con due finestre illuminate. Se la sentiva di... No, aveva troppo sonno. «Hanno il telefono, vero?» «Sì, signor commissario. Vuole che le chiami?» Che brava quella piccola cameriera con la cuffia bianca che faceva pensare a un topolino che trottellava avanti e indietro. «Venga, prego. C'è una di quelle signore al telefono». Maigret prese il ricevitore. «Pronto?» «Sono il commissario, sì. Non sono riuscito a passare da voi. Il funerale si farà domani mattina alle sette. Come?» «No, stasera non posso. Ho del lavoro. Buonasera, signora». Doveva essere la vecchia. E certo adesso correva tutta agitata a dare la notizia alla figlia. Poi ne avrebbero discusso insieme per decidere il da farsi. La proprietaria dell'hotel Baccon entrò nella sala, tutta sorrisi e moine. «Le è piaciuta la bouillabaisse? L'ho fatta fare apposta per lei, dato che...» «La bouillabaisse?» Maigret si sforzò di ricordare. «Ah, sì, squisita, eccellente!» Si affrettò a rispondere con un sorriso cortese. In realtà non se la ricordava. Spazzata via insieme alle cose inutili. Boutique, l'autobus, il garage. Fra i particolari gastronomici, uno solo restava vivo nella memoria. Il cosciotto d'agnello di Jajah, con quell'insalata odorosa di aglio. No, ce n'era un altro. Il profumo dolciastro del porto che non aveva bevuto al Provençal e che si confondeva con il profumo altrettanto stucchevole della brillantina di Brown, figlio. «Per favore, mi fa portare una bottiglia d'acqua?» chiese avviandosi su per le scale. Capitolo V Il funerale di William Brown Il sole dava già alla testa e mentre nelle strade tutte le imposte erano ancora chiuse i marciapiedi deserti, nella piazza del mercato la vita pigra e serena era cominciata da un pezzo. Era la vita di gente che si alza presto, che ha molto tempo davanti a sé e invece di agitarsi lancia di tanto in tanto, in italiano e in francese, un grido di richiamo. Il municipio, con la sua facciata gialla e la doppia scalinata, sorgeva proprio al centro del mercato. L'obitorio si trovava nel seminterrato e da lì che alle 7-10 si fermò un carro funebre, tutto nero e alquanto incongruo in mezzo ai fiori e alla verdura. Maigret arrivò quasi nello stesso istante e vide Boutique che si avvicinava di corsa. Doveva essersi alzato da non più di 10 minuti perché aveva il gilet ancora sbottonato. «Abbiamo il tempo di bere qualcosa? Non c'è ancora nessuno!» Spinse la porta di un piccolo bar e ordinò un room. «È stata una cosa complicatissima, sa? Il figlio si era scordato di dirci quanto voleva spendere per la bara. Ieri sera gli ho telefonato. Mi ha risposto che il presto non aveva importanza purché fosse di buona qualità. Peccato che in tutta Antib non ci fosse neppure una bara di quercia massiccia. Ho dovuto farla arrivare da Cana alle 11 di sera. Poi ho dovuto pensare alla cerimonia. Ci voleva un funerale religioso o no? Ho ritelefonato al Provençal ma mi hanno risposto che Brown era già a letto. «Ho fatto del mio meglio, guardi!» E indicò il portale parato a lutto di una chiesa che si trovava nella piazza del mercato, un centinaio di metri più in là. Maigret preferì non dire nulla ma aveva l'impressione che il figlio di Brown fosse protestante, non cattolico. Il bar aveva due porte, una che dava sulla piazza e l'altra su un vicolo. Mentre Maigret e Boutique uscivano da una parte, un uomo entrava dall'altra e il suo sguardo incrociò quello del commissario. Era Giuseppe, il cameriere di Cannes, il quale, incerto se salutare o no, finì per abbozzare un gesto vago. Maigret pensò che Giuseppe avesse accompagnato Già Già e Sylvie ad Antibes e non si sbagliava. Le due donne erano proprio davanti a lui e camminavano verso il carro funebre. Già Già era senza fiato e l'altra la trascinava come se temesse di arrivare troppo tardi. Sylvie indossava quel tagliore blu che le dava un'aria da signorina per bene. Quanto a Già Già, si vedeva che non era più abituata a camminare e probabilmente le dolevano i piedi o aveva le gambe gonfie. Portava un vestito di seta nera molto lucida. Dovevano essersi alzate verso le 5 e mezzo per prendere il primo autobus. Un avvenimento senza dubbio straordinario per quelli del Liberty Bar. Boutique chiese «Chi sono?» «Non so», rispose Megre con aria evasiva. Ma proprio in quel momento le due donne, che avevano ormai raggiunto il carro funebre, si fermarono e si voltarono. Non appena Già Già vide il commissario, si precipitò verso di lui. «Siamo in ritardo? Dov'è?» Sylvie aveva gli occhi cerchiati e lo stesso atteggiamento ostile nei confronti di Megre. «Vi ha accompagnate Joseph?» L'altra stava quasi per mentire. «Chi gliel'ha detto?» Boutique si teneva in disparte. Megre vide un taxi che, non potendo attraversare il mercato pieno di gente, si era fermato all'angolo di una strada. Ne scesero due donne che subito richiamarono l'attenzione generale. erano vestite a lutto con dei veli di crespo nero lunghi quasi fino a terra. Il contrasto con il sole e con il festoso brusio della piazza era davvero stridente. Megre mormorò a Già Già «Mi scusi?» Boutique era nervoso. Il becchino voleva andare a prendere la bara, ma l'ispettore gli chiese di aspettare ancora un po'. «Siamo in ritardo?» chiese la vecchia. «È colpa del taxi che non arrivava mai». Il suo sguardo si posò immediatamente su Già Già e Sylvie. «Chi sono?» «Non lo so». «Spero che non abbiano intenzione di venire». Arrivò un altro taxi. La portiera si aprì prima ancora che la macchina si fermasse e ne scese Harry Brown impeccabile nel suo abito nero con i capelli biondi ben pettinati e il viso riposato. Il suo segretario, anche lui in nero, lo seguiva reggendo una corona di fiori. Proprio in quel momento Megre notò che Sylvie era sparita. Si guardò intorno e la vide tra le bancarelle del mercato vicino a delle ceste piene di fiori. Quando tornò, aveva in mano un enorme mazzo di violette di Nizza. Forse spinte dal gesto di Sylvie, anche le due donne vestite di nero si allontanarono in direzione del fioraio discutendo animatamente. La vecchia contò alcune monete e la giovane scelse delle mimose. Frattanto, Brown si era fermato a pochi metri dal carro funebre, limitandosi a rivolgere un cenno di saluto a Megre e a Boutique. «Sarà meglio che gli dica che disposizione ha dato per la cerimonia», disse l'ispettore con un sospiro. Intorno alle bancarelle più vicine al municipio il viavai di gente sembrava essersi arrestato. Tutti seguivano attentamente la scena. Ma venti metri più in là c'era la solita animazione. Grida, risate e poi fiori, frutta e verdura nel sole e profumo di aglio e di mimose. Quattro becchini portavano la bara, che era enorme, con una profusione di ornamenti in bronzo. Boutique tornò accanto a Megre. «Credo che non gliene importi, granché, ha alzato le spalle». La gente si fece da parte, i cavalli si mossero. Harry Brown, rigido, con il cappello in mano, avanzò fissandosi la punta delle scarpe di vernice. Le quattro donne esitarono scambiandosi rapide occhiate. Poi, mentre la folla si richiudeva dietro di loro, si trovarono senza volerlo sulla stessa fila, proprio dietro al giovane Brown e al suo segretario. La chiesa, le cui porte erano state spalancate, era deserta e deliziosamente fresca. Brown stava in piedi in cima alla scalinata, aspettando che i becchini togliessero la barra dal carro funebre. Doveva essere abituato alle cerimonie e il fatto di trovarsi al centro dell'attenzione non gli causava il minimo imbarazzo. Anzi, osservava le quattro donne tranquillamente, senza eccessiva curiosità. Le disposizioni erano state impartite troppo tardi e all'ultimo momento ci si accorse che mancava l'organista. Il parroco mandò a chiamare Boutique e quando questi tornò dalla sacristia non ciò mortificato a Maigret. Non ci sarà la musica, bisognerebbe aspettare almeno un quarto d'ora e poi forse l'organista è andato a pescare. Ogni tanto qualcuno entrava nella chiesa, dava un'occhiata in giro e se ne andava. Brown era sempre in piedi, sempre rigido e si guardava intorno con paccata curiosità. Le eseque si svolsero rapidamente, senza organo, senza coro. Il sacerdote con l'aspersorio benedisse la bara e subito dopo i quattro becchini la riportarono sul carro. Fuori cominciava a far caldo. Il corteo passò davanti alla vetrina di un barbiere proprio mentre un lavorante in camice bianco tirava sulla saracinesca. Un uomo si faceva la barba davanti a una finestra aperta e la gente che andava al lavoro si voltava a guardare quello strano funerale, stupita dal contrasto fra il sontuoso carro funebre di prima classe e il seguito così esiguo. Le due donne di Cannes e le due di Antibes procedevano sempre sulla stessa fila ma si tenevano a un metro di distanza. Un taxi vuoto seguiva lentamente il corteo. Boutique che si sentiva responsabile della cerimonia era preoccupato. Crede che ci saranno complicazioni? Ma non fu così. Il cimitero pieno di fiori era allegro come il mercato. Il prete e il chierichetto che nessuno aveva visto arrivare stavano già aspettando vicino a una fossa vuota. Harry Brown fu invitato a gettare la prima palata di terra. Poi ci fu un attimo di esitazione. La vecchia vestita a lutto spinse avanti la figlia poi la seguì. Camminando a grandi passi Brown aveva già raggiunto il taxi che aspettava all'ingresso del cimitero. Ci fu di nuovo un attimo di esitazione. Megret si teneva un po' in disparte insieme a Boutique. Gia Gia e Sylvie non osavano andarsene senza salutarlo ma le donne vestite a lutto le precedettero. Gina Martini piangeva sotto il velo appallottolando nervosamente il fazzoletto. La madre domandò sospettosa era il figlio vero? Immagino che vorrà vedere la villa. Può darsi non lo so. Lei verrà a trovarci oggi? E intanto non staccava gli occhi da Gia Gia e Sylvie era chiaro che solo loro la interessavano veramente. Da dove saltano fuori non si doveva permettere a donne come quelle. Si udiva il canto degli uccelli sugli alberi. I becchini lavoravano col ritmo regolare e via via che la fossa si riempiva il rumore della terra che cadeva si faceva sempre più tenue. La corona e i due mazzi di fiori erano appoggiati sulla tomba vicina e Sylvie continuava a guardare da quella parte con lo sguardo fisso e le labbra esangui. Gia Gia era sulle spine. Aspettava che le altre due se ne andassero per poter parlare a Maigret. Aveva caldo e ad ogni istante si asciugava il sudore. Di certo non ne poteva più di stare in piedi. Sì verrò a trovarvi presto. I veli neri si allontanarono verso l'uscita e Gia Gia raggiunse il commissario tirando un gran sospiro di sollievo. Sono loro? Era veramente sposato? Sylvie era rimasta indietro. Non riusciva a distogliere lo sguardo dalla fossa ormai quasi piena. Anche Boutique era nervoso tanto più che non osava avvicinarsi per ascoltare la conversazione. Chi ha pagato il funerale? Il figlio? Si vedeva che Gia Gia era a disagio. Che strano funerale disse. Non so perché ma non me l'ero immaginato così. Non riuscivo neanche a piangere. Ora però era commossa e guardava il cimitero in preda a un vago malessere. Neanche un po' di tristezza si sarebbe detto che cosa? Non so come se non fosse un vero funerale. Soffocando un singhiozzo si asciugò gli occhi e si voltò verso Sylvie. Andiamo Joseph ci sta aspettando. Seduto sulla porta di casa il guardiano del cimitero stava tagliando a pezzi un grongo. Lei cosa ne pensa? Boutique l'ha preoccupato. Anche lui avvertiva confusamente che c'era qualcosa che non andava. Negrè si accese la pipa. Penso che William Brown è stato assassinato replicò. Questo lo sapevamo. Stavano passeggiando per le strade di Antibes. I negozi avevano già le tende da sole abbassate. Il barbiere che avevano visto di mattina leggeva il giornale seduto davanti alla porta. In plasma se Negrè scorse le due donne di Cannes che aspettavano l'autobus insieme a Joseph. Ci sediamo a bere qualcosa? Propose Boutique. Negrè accettò. Si sentiva invadere da una pigrizia quasi invincibile. Davanti ai suoi occhi era tutto un sosseguirsi di immagini confuse e lui non cercava neppure di mettervi ordine. Seduto a un tavolo del caffè glacier socchiuse le palpebre. Il sole scottava e le ciglia abbassate formavano una grata ombrosa attraverso la quale le persone e le cose assumevano un aspetto fiabesco. Vide Joseph che aiutava Già Già a salire sull'autobus. Poi passò lentamente un signore basso tutto vestito di bianco con un casco coloniale in testa e un ciò ciò dalla lingua violace al guinzaglio. Altre immagini si mescolavano alla realtà. William Brown che al volante della sua vecchia auto accompagnava le sue due donne da un negozio all'altro magari con il pigiama sotto il cappotto e la barba lunga. A quell'ora nel suo lussuoso appartamento al Provençal il figlio dettava certamente cablogrammi o rispondeva al telefono andando su e giù a lunghi passi scattanti e regolari. È una strana faccenda sospirò Boutig che non sopportava il silenzio e accavallava continuamente le gambe ora in un senso ora nell'altro. È un vero peccato che ci si sia dimenticati di avvertire l'organista. Già William Brown è stato assassinato. Megrello ripeteva a se stesso come per convincersi che nonostante tutto si trattava di un dramma. aveva la fronte madire di sudore e il solino sembrava soffocarlo. Guardò avidamente il grosso cubetto di ghiaccio che galleggiava nel suo bicchiere. Brown è stato assassinato. È uscito di casa per andare a Cannes come faceva ogni mese. Ha lasciato la macchina al solito garage. È passato in banca o da un legale per riscuotere il mensile che gli mandava suo figlio. Poi ha trascorso alcuni giorni al Liberty Bar. Giorni di calda pigrizia simile a quella che opprimeva Megre. Giorni passati in pantofole a trascinarsi da una sedia all'altra a mangiare e bere insieme a Gia Gia a guardare Sylvie che girava seminuda per casa. Il venerdì verso le due se ne va. Alle cinque è al garage per riprendere la macchina e un quarto d'ora dopo crolla ferito a morte sulla scala esterna della villa mentre le due donne credendo l'ubriaco lo insultano dalla finestra. Ha in tasca circa duemila franchi come al solito. Megre in realtà non aveva parlato ma solo pensato continuando a osservare attraverso la grata delle ciglia il via vai dei passanti. Fu Buttig a rompere il silenzio mormorando mi chiedo chi avesse qualcosa da guadagnare dalla sua morte. Ecco la domanda cruciale. Le sue due donne? No di certo. Loro al contrario volevano che vivessi il più a lungo possibile. Era nel loro interesse visto che dei duemila franchi che lui portava a casa ogni mese riuscivano anche a mettere da parte qualcosa. Quelle di Khan? Neanche. Con la sua morte avrebbero perso uno dei pochi clienti uno che per otto giorni al mese dava da mangiare a tutta la baracca e che pagava le calze di seta all'una e le bollette del gas e della luce all'altra. No l'unico che ci avrebbe guadagnato era Harry Brown che alla morte del padre non avrebbe più dovuto sborsare i cinquemila franchi al mese. Ma che cosa erano cinquemila franchi per una famiglia che riempiva navi intere con la lana dei suoi allevamenti? A un tratto Buttig disse sospirando finirò col credere anch'io come la gente di qui che si tratti di un caso di spionaggio. Cameriere un altro esclamò Megre se ne pentì subito avrebbe voluto richiamare il cameriere ma non osava non osava per timore di ammettere la propria debolezza e avrebbe sempre ricordato quel momento i tavolini all'aperto del café Glacier la Place Massée perché era uno dei suoi rari momenti di debolezza di totale debolezza l'aria era tiepida una ragazzina scalza e con le gambe abbronzate vendeva mimose all'angolo della strada una grossa torpedo grigia con gli accessori cromati passò silenziosamente diretta verso la spiaggia a bordo tre giovani donne che indossavano pantaloni leggeri e un giovanotto con dei baffetti da attor giovane c'era aria di vacanza anche il giorno prima al tramonto al porto di Cannes c'era aria di vacanza soprattutto a bordo dell'Ardena dove il proprietario faceva il galante con quelle ragazze dalle forme procaci maigret invece era vestito di nero come a Parigi e portava la bombetta un cappello che lì era proprio stonato di fronte a lui un manifesto annunciava a grandi lettere blu casino di joan le pen gran galà della pioggia d'oro e il ghiaccio si scioglieva a poco a poco nel bicchiere opalescente le vacanze guardare il fondo cangiante del mare da una barca dipinta di verde o di arancione fare la siesta sotto un pino marittimo ascoltando il ronzio dei mosconi ma soprattutto non doversi preoccupare di uno sconosciuto che si era preso chissà come una coltellata alla schiena e neppure di quelle donne mai viste prima i cui volti lo ossessionavano come se fosse stato lui ad andarci a letto che brutto mestiere nell'aria c'era odore di asfalto sul riscaldato boutique portava un garofano rosso all'occhiello della giacca grigio chiaro William Brown beh era stato sotterrato cosa voleva di più e che cosa c'entrava lui non era certo stato lui il proprietario di uno degli yacht più grandi d'Europa e non era stato lui a mettersi con le due martini la vecchia con il viso tutto imbellettato e la giovane dalle forme prosperose e neppure ad abbandonarsi soddisfatto alla pigrizia un po' sordida del liberty bar leggere ventate di aria tiepida gli accarezzavano le guance la gente che passava era in vacanza tutti erano in vacanza lì la vita stessa sembrava una vacanza se la prendeva comoda anche boutique che non riusciva a stare zitto e diceva a bassa voce in fondo sono ben contento di non avere la responsabilità di allora McGrae smise di guardare il mondo attraverso le ciglia e si girò verso l'ispettore aveva il viso un po' congestionato per via del caldo e della sonnolenza e il suo sguardo era leggermente appannato ma bastarono pochi secondi perché riacquistasse la sua risa limpidezza già disse alzandosi cameriere quant'è lasci stare no assolutamente buttò alcune monete sul tavolo sì era un momento di cui McGrae si sarebbe ricordato a lungo perché aveva avuto davvero la tentazione di non crearsi tanti problemi di lasciar correre di fare come gli altri insomma che prendono ogni giorno come viene ed erano giorni splendidi va via le è venuta un'idea no la sua testa era troppo piena di sole di languore non aveva neppure l'ombra di un'idea e siccome non voleva mentire mormorò William Brown è stato assassinato e dentro di sé pensava non gliene frega niente a loro sì a tutte quelle persone che si crogiolavano al sole come lucertole e che quella sera sarebbero andate al gran galà della pioggia d'oro vado a lavorare disse Maigret strinse la mano a boutique e si allontanò si fermò per lasciar passare una macchina da 300.000 franchi guidata da una ragazzina di appena 18 anni che fissava la strada con le sopracciglia aggrottate Brown è stato assassinato continuava a ripetersi ora sapeva che era meglio non sottovalutare la costa azzurra girò le spalle al café glacier e per non ricadere in tentazione ordinò a sé stesso come a un sottoposto scoprire che cosa ha fatto Brown nel pomeriggio di venerdì dalle 2 alle 5 e allora bisognava andare a Cannes e prendere l'autobus Maigret si mise ad aspettarlo sotto un lampione con le mani in tasca la pipa fra i denti e l'aria scontrosa capitolo sesto l'amico imbarazzato a Cannes Maigret si dedicò per ore al grigio lavoro che di solito si affida a un ispettore ma aveva bisogno di darsi da fare di agire o quantomeno di illudersi di agire alla buon costume conoscevano Sylvie perché era schedata non ho mai avuto problemi con lei disse la gente che si occupava del suo quartiere è una ragazza tranquilla si presenta quasi regolarmente alla visita e il Liberty Bar? gliene hanno parlato? è un bizzarro locale che ci ha creato problemi per molto tempo e continua a crearne ci arriva una lettera anonima quasi ogni mese in un primo momento sospettavamo che già già smercasse stupefacenti l'abbiamo messa sotto sorveglianza e posso garantirle che era un sospetto infondato qualcuno aveva anche insinuato che il retrobottega servisse come luogo di incontro per tipi dalle abitudini particolari ma non è vero fece Maigret infatti la faccenda è ancora più strana persino buffa la vecchia Gia Gia attira individui di una certa età che non hanno più voglia di niente se non di ubriacarsi insieme a lei d'altra parte lei ha una piccola rendita perché suo marito è morto in un incidente lo so in un altro ufficio Maigret chiese informazione su Joseph lo teniamo d'occhio perché gioca sempre alle corse ma non abbiamo mai trovato nulla che potesse incriminarlo insomma un fiasco totale Maigret si mise allora per lustrare la città con le mani in tasca e un'aria ostinata che manifestava tutto il suo malumore cominciò col visitare i grandi alberghi dove si fece consegnare i registri dei clienti di passaggio pranzò di fretta in un ristorante vicino alla stazione e alle tre del pomeriggio aveva appurato solo che Harry Brown non aveva dormito a canne la notte fra il martedì e il mercoledì e neppure in quella successiva c'era quasi da ridere tanto darsi da fare per niente forse Brown figlio è arrivato da Marsiglia in macchina ed è ripartito il giorno stesso Maigret tornò alla buon costume e si fece dare la fotografia di Sylvie aveva già in tasca quella di William Brown che aveva preso durante la visita alla villa e si immerse in un'atmosfera del tutto diversa quella degli alberghetti nella zona del porto dove le camere si affittano anche a ore i proprietari intuivano immediatamente che Maigret era un poliziotto perché ha gente che teme la polizia più di ogni altra cosa aspetti un attimo provo a chiedere alla cameriera salendo e scendendo per scale buie il commissario scopriva una vera e propria corte dei miracoli questo tipo grande e grosso? no non mi sembra di averlo mai visto qui Maigret mostrava per prima la fotografia di William Brown poi tirava fuori quella di Sylvie la conoscevano quasi dappertutto si è venuta qualche volta ma è già un po' di tempo di notte oh no quando viene con qualcuno è sempre per un momento solo Hotel Bellevue Hotel DuPort Hotel Bristol Hotel Duvergne e ce n'erano altri ancora per lo più nei vicoli e per lo più così discreti che come insegna avevano solo una targa accanto a un androne spalancato acqua corrente prezzi modici a volte Maigret saliva qualche gradino e trovava una scala ricoperta da una passatoia a volte nel corridoio incontrava una coppia furtiva che si voltava dall'altra parte e quando usciva rivedeva il porto dove erano state tirate in secco alcune barche a vela di sei metri quelle per le regate internazionali dei marinai le stavano verniciando accuratamente circondati da gruppi di curiosi che si erano fermati a guardare non vogliamo grane gli avevano detto a Parigi bene se le cose andavano avanti così sarebbero stati serviti a dovere non ci sarebbero state grane per la semplice ragione che Maigret non avrebbe scoperto un bel niente fumava una pipa dopo l'altra caricandone una quando la precedente non era ancora spenta ne aveva sempre due o tre in tasca era furibondo e ce l'aveva con tutti con quella città che gli era sempre più antipatica con una donna che insisteva per vendergli dei frutti di mare e persino con un ragazzino scalzo che correndo gli era finito tra le gambe e gli aveva riso in faccia conosce quest'uomo? stava mostrando per la ventesima volta la fotografia di William Brown qui non è mai venuto e questa donna? Sylvie? è di sopra da sola? l'albergatore alzò le spalle e gridò nella tromba delle scale Albert vieni giù un attimo apparve un cameriere sudicio che guardò il commissario di traverso Sylvie ancora di sopra? sì alla sette hanno ordinato da bere? no niente allora non ne hanno ancora per molto disse il padrone a megre se vuole parlare con lei deve solo aspettare un po' l'albergo si chiamava Bossejour e si trovava in una strada parallela al lungomare proprio di fronte a una panetteria maigre aveva davvero voglia di rivedere Sylvie? doveva farle delle domande? non lo sapeva nemmeno lui era stanco in tutto il suo atteggiamento c'era quasi per reazione un che di minaccioso come se avesse intenzione di piantargli tutto non poteva certo mettersi ad aspettare davanti all'albergo attraverso la vetrina la padrona della panetteria lo stava guardando con aria ironica Sylvie aveva dunque tanti amanti che a volte qualcuno di loro doveva aspettare il suo turno giù da basso? sì doveva essere così maigre era furibondo all'idea di essere scambiato per un cliente della ragazza raggiunse l'angolo della strada con l'intenzione di fare il giro dell'isolato tanto per passare il tempo quando fu sul lungomare passò davanti a un taxi accostato al marciapiede si voltò a guardarlo l'autista era sceso e camminava avanti e indietro in un primo momento non riuscì a capire che cosa l'avesse colpito si voltò di nuovo e poi ancora non era la macchina a ricordargli qualcosa ma l'uomo ed un tratto quel volto si associò al ricordo del funerale di quella mattina scusi lei è di Antibes di Joan Le Pen stamattina ha seguito un funerale fino al cimitero vero? sì perché? e il cliente che ha accompagnato qui è lo stesso di stamattina? l'autista squadrò il commissario da capo a piedi incerto se rispondere o meno perché mi fa queste domande? polizia allora? sì è lo stesso è un tale che mi tiene a disposizione per tutto il giorno da ieri e adesso dov'è? non lo so è andato da quella parte l'autista indicò una strada e di colpo assunse un tono preoccupato senta non vorrà mica arrestarlo prima che mi abbia pagato Magret rimase per un po' immobile a fissare il vecchio cofano del taxi era così concentrato che si era scordato di accendere la pipa d'improvviso gli balinò il sospetto che la coppia avrebbe potuto lasciare l'albergo e si precipitò verso il beau sojour la panettiera lo vide arrivare e chiamò il marito che stava in fondo al negozio questi infatti comparve con il viso sporco di farina ma tant'è ormai Megret se ne infischiava camera 7 guardando la facciata cercava di indovinare quale tra le finestre con le tende chiuse potesse corrispondere alla camera 7 ancora non osava cantare vittoria eppure no non poteva essere una coincidenza per la prima volta due elementi di quella storia gli apparivano collegati fra loro Sylvie e Harry Brown che si incontravano in un albergo equivoco del porto il tempo passava per 20 volte il commissario percorsi i 100 metri che lo separavano dal lungomare e per 20 volte rivide il taxi fermo allo stesso posto l'autista si era appostato all'angolo della strada in modo da poter sorvegliare anche lui il suo cliente finalmente la porta a vetri in fondo al corridoio si aprì camminando in fretta Sylvie sbucò sul marciapiede e si trovò proprio di fronte a Maigret buongiorno esclamò lui lei rimase impietrita pallida come non l'aveva mai vista aprì la bocca ma non ne uscì alcun suono il suo amico si sta rivestendo? Sylvie girava la testa di qua e di là come una banderuola le cadde per terra la borsetta e Maigret la raccolse la ragazza gliela strappò letteralmente di mano come se avesse una gran paura che lui la aprisse aspetti un momento mi scusi ho fretta se vuole può accompagnarmi no non mi va proprio di camminare soprattutto in quella direzione era più commovente che graziosa per via dei grandi occhi che le divoravano il viso si vedeva che era in preda a un'irrefrenabile agitazione a un'angoscia che le toglieva il respiro che cosa vuole da me? il suo unico desiderio lo si capiva era fuggire via di corsa per impedirglielo Maigret le prese una mano e la tenne fra le sue con un gesto che agli occhi dei panettieri di fronte poteva sembrare affettuoso Henry è ancora di sopra? non capisco va bene lo aspetteremo insieme calma figliola niente sciocchezze e lasci stare la borsetta il commissario infatti gliela aveva presa e attraverso la seta leggera gli sembrava di riconoscere la forma di un pacchetto di banconote non faccia scenate la gente ci sta guardando per non parlare dei passanti che dovevano di certo pensare che Maigret e Silviste stessero discutendo della tariffa la supplico? no poi a voce più bassa se non sta buona le metto le manette lei lo guardò con gli occhi sbarrati per lo spavento poi scoraggiata o vinta abbassò il capo a quanto pare Harry non ha fretta di scendere lei non disse nulla non cercò di negare né di convincerlo che si sbagliava lo conosceva già? erano in pieno sole Silvia aveva il viso imperlato di sudore sembrava cercasse disperatamente un'idea che non riusciva a trovare mi ascolti? la sto ascoltando ma no aveva già cambiato parere rimase in silenzio mordendosi forte le labbra Joseph l'aspetta da qualche parte? Joseph? adesso era atterrita in preda al panico e finalmente si udirono dei passi sulle scale dell'albergo Silvi tremava non osava guardare verso il corridoio immerso nell'oscurità i passi eccheggiarono sul pavimento si fecero più vicini la porta a vetri si aprì si richiuse e i passi si arrestarono di colpo Harry Brown che ancora non si distingueva nella penombra doveva aver visto la coppia fu questione di un attimo poi riprese a camminare facendo ricorso a tutta la sua faccia tosta passò senza la minima esitazione tutto impettito rivolgendo un rapido cenno di saluto a Maigret questi teneva stretta la mano inerte di Silvi per raggiungere Brown che ormai li aveva superati avrebbe dovuto lasciare andare la ragazza sarebbe stata una scena ridicola per di più sotto gli occhi della panettiera venga con me disse a Silvi ha intenzione di arrestarmi? non si preoccupi doveva fare subito una telefonata ma era assolutamente deciso a trattenere Silvi lì intorno c'erano dei bar entrò in uno a caso e trascinò con sé la ragazza nella cabina pochi istanti dopo parlava con l'ispettore Boutique corre immediatamente all'hotel Provençal e chieda con cortesia ma con fermezza a Harry Brown di non lasciare Antib prima del mio arrivo se necessario gli impedisca di uscire Silvia ascoltava prostrata non aveva più la forza di opporsi non tentava più nemmeno di protestare che cosa prende? le chiese il commissario tornando al tavolo è lo stesso Maigret teneva d'occhio soprattutto la borsetta il cameriere subdorando qualcosa di strano li osservava con curiosità in quel momento una ragazzina che andava di tavolo in tavolo si avvicinò porgendo un mazzorino di violette Maigret ne prese uno lo offrì a Silvie e dopo essersi frugato in tasca con aria seccata afferrò di colpo la borsetta permette? non ho spiccioli il tutto era accaduto così in fretta e con tanta naturalezza che Silvie non fece in tempo a dire nulla per un attimo le sue dita si strinsero intorno al manico della borsa mentre la ragazzina aspettava pazientemente scegliendo un altro mazzorino dal suo cesto Maigret cercò qualche spicciolo sotto un grosso pacchetto di banconote da mille franchi e ora andiamo disse alzandosi anche lui era nervoso aveva fretta di andarsene di non sentirsi più addosso tanti sguardi curiosi passiamo a salutare quella brava donna di GiaGian? Silvie ormai sconfitta lo seguì docilmente niente li distingueva dalle altre coppie che passavano se non il fatto che era Maigret a tenere con grande cautela la borsetta della ragazza dopo di lei? Silvie scese i due gradini entrò nel bar si diresse verso la porta a vetri in fondo al locale dietro la tendina di tulle si intravedeva un uomo seduto di spalle che all'arrivo dei due si alzò di scatto era Jan lo steward svedese che riconoscendo Maigret arrossì fino alla punta dei capelli ah è di nuovo qui beh amico mio mi faccia un piacere vada a fare due passi GiaGia era disorientata il viso di Silvie le diceva chiaramente che stava accadendo qualcosa di strano e lei non vedeva allora che il marinaio se ne andasse vieni domani Jan non lo so ma lui paralizzato dallo sguardo duro di Maigret non sapeva come prendere congedo e se ne stava lì con il berretto in mano si va bene arrivederci gli disse Maigret spazientito aprendo la porta per lasciarlo passare poi bruscamente girò la chiave nella toppa e disse a Silvie togliti pure il cappello GiaGia azzardò timidamente vi siete incontrati? esatto ci siamo incontrati GiaGia avvertiva la tempesta nell'aria e non osava neppure offrire da bere per nascondere il suo imbarazzo raccolse un giornale dal pavimento lo ripiegò e andò a controllare qualcosa sui fornelli Maigret caricò lentamente la pipa poi si avvicinò anche lui al fornello arrotolò un pezzo di giornale e lo accostò alla fiamma Silvie che era rimasta in piedi vicino al tavolo si tolse il cappello e lo posò davanti a sé allora Maigret si sedette aprì la borsetta e cominciò a contare le banconote disponendoli in un mucchietto ordinato fra i bicchieri sporchi diciotto diciannove venti ventimila franchi GiaGia si era voltata di colpo e fissava le banconote sbalordita guardò Silvie e poi il commissario tesa nello sforzo di capire che cosa oh niente di straordinario borbottò Maigret Silvie ha scovato un amante più generoso degli altri tutto qui e vuol sapere come si chiama Harry Brown si era seduto come se fosse a casa sua con i gomiti sul tavolo la pipa in bocca e la bombetta all'indietro sulla nuca ventimila franchi per un momento solo come dicono all'hotel beau sejour per darsi un contegno GiaGia si asciugava le mani grassocce nel grembiule era sbigottita e non osava dire più niente Silvie pallidissima il viso tirato aveva lo sguardo fisso nel vuoto come se fosse ormai preparata al peggio puoi sederti esclamò Maigret lei obbedì meccanicamente anche tu GiaGia aspetta prima dacci dei bicchieri puliti Silvie si era seduta allo stesso posto del giorno prima quando mangiava con la vestaglia semi aperta e il seno nudo a pochi centimetri dal piatto GiaGia posa sul tavolo una bottiglia e dei bicchieri e si sedette sull'orlo della sedia e ora mie care aspetto il fumo della pipa saliva lentamente verso la finestrella tutta azzurra adesso che il sole non la raggiungeva più GiaGia guardava Silvie e la ragazza ostinata o assente continuava a tacere lo sguardo fisso nel vuoto sto sempre aspettando avrebbe potuto ripeterlo mille volte e aspettare per dieci anni ma solo GiaGia apri bocca con il mento premuto sul petto disse in un sospiro Dio mio chi poteva immaginare Maigret dovette fare uno sforzo per controllarsi si alzò e si mise a camminare avanti e indietro borbottando dovrà pur decidersi quella ragazza lo faceva andare su tutte le furie lui le passò accanto una, due, tre volte ma lei continuava a restare immobile come una statua di tempo ne ho ma la quarta volta non si trattenne fu un gesto istintivo con una mano afferrò la spalla della ragazza senza neppure rendersi conto della forza con cui la stringeva lei alzò il braccio per coprirsi il viso come una bambina che ha paura di essere picchiata allora cedendo al dolore Silvie gridò fra i singhiozzi vigliacco schifoso vigliacco non dirò niente 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 già già sembrava disperata maigre torvo si lasciò cadere sulla sedia mentre Silvie continuava a piangere senza nascondersi il viso senza asciugarsi gli occhi a piangere di rabbia più che di dolore niente ripeteva meccanicamente fra un singhiozzo e l'altro la porta del bar si aprì cosa che succedeva piuttosto di rado un cliente si appoggiò al bancone e girò la leva della slot machine capitolo settimo soprattutto non vogliamo grane infastidito maigre si alzò e andò personalmente nel bar per evitare qualche manovra da parte delle due donne il cliente chissà poteva essere un complice di Joseph che cosa vuole l'altro rimase così sconcertato che il commissario nonostante il malumore per poco non scoppiò a ridere era un tipo scialbo di mezza età con i capelli grigi che doveva essere arrivato lì rasentando i muri e inseguendo sogni di un erotismo sfrenato e ora dietro al banco vedeva spuntare maigre con quell'aria seccata una birra balbettò lasciando la leva della slot machine attraverso le tendine maigre vide le due donne avvicinarsi l'una all'altra già già chiedeva qualcosa e Sylvie le rispondeva stancamente di birra non ne abbiamo o almeno maigre non ne vedeva a portata di mano quello che vuole allora un porto maigre gli versò un liquore a caso nel primo bicchiere che gli capitò l'uomo ne beve solo un sorso quant'è due franchi lo sguardo di maigre andava dal vicolo ancora caldo di sole al piccolo bar di fronte dove si intravedevano delle figure in movimento al retrobottega dove già già stava tornando al suo posto il cliente se ne andò chiedendosi in che razza di locale fosse finito allora maigre tornò in cucina e si sedette a cavalcioni della sedia l'atteggiamento di già già era un po' cambiato poco prima era in ansia ma soprattutto si sforzava di capire cosa stesse accadendo ora la sua ansia aveva una ragione precisa stava riflettendo e intanto guardava Silvi con uno sguardo pieno di commiserazione ma anche con una punta di rancore sembrava volesse dire bel pasticcio e adesso non sarà facile venirne fuori azzardò ad alta voce sa com'è commissario gli uomini sono così strani ma non c'era convinzione nelle sue parole e lei se ne accorse se ne accorse anche Silvi che alzò le spalle l'ha vista stamattina al funerale e gli sarà venuta voglia è talmente ricco che Megre sospirò e accese un'altra pipa guardando distrattamente verso la finestrella l'atmosfera era lugubre già già temendo di peggiorare le cose si era decisa a stare zitta Silvi non piangeva non si muoveva neanche più aspettava solo la piccola sveglia continuava la sua vita laboriosa spingendo avanti sul quadrante sbiadito le lancette nere che sembravano troppo pesanti tic tac a tratti quel ticettio diventava un rumore assordante un gatto bianco attraversò il cortile e venne a sdraiarsi proprio davanti alla finestrella tic tac tic tac tic tac già già che non era certo fatta per le situazioni drammatiche si alzò e andò a prendere una bottiglia di liquore nell'armadio come se niente fosse senza aprir bocca riempì tre bicchieri e ne spinse uno davanti a Megre e l'altro davanti a Silvi i ventimila franchi erano sempre sul tavolo vicino alla borsetta tic tac tic tac e andò avanti così per un'ora e mezzo un'ora e mezzo di silenzio interrotto solo dai sospiri di già già che continuava a bere e cominciava ad avere gli occhi lucidi ogni tanto si sentivano le grida dei ragazzini che giocavano nel vicolo o lo scampanellio ostinato di un trame in lontananza la porta del bar si aprì un arabo mise dentro la testa e gridò noccioline aspettò un momento poi non ricevendo risposta richiuse la porta e scomparve erano le sei quando la porta si aprì di nuovo e questa volta la stanza sembrò percorsa da una vibrazione che annunciava l'evento atteso da tutti già già stava quasi per alzarsi e correre nel bar ma uno sguardo di Megre la trattenne ostentando un'assoluta indifferenza silvigerò la testa dall'altra parte la seconda porta si aprì Giuseppe entrò e vide subito la schiena di Megre poi il tavolo con i bicchieri la bottiglia la borsetta aperta le banconote il commissario si voltò lentamente e il nuovo arrivato immobile si limitò a similare merda chiuda la porta si sieda il cameriere chiuse la porta ma non si sedette aveva le sopracciglia aggrottate e sembrava contrariato ma non aveva perso il suo sangue freddo anzi era perfettamente padrone di sé si avvicinò a Gia Gia e la baciò sulla fronte buongiorno poi fece altrettanto con Silvie che non alzò neppure la testa che cosa c'è? in quell'istante Megre capì che le cose si mettevano male ma come sempre più aveva la sensazione di trovarsi in un vicolo cieco e più si intestardiva da dove viene? indovini Giuseppe tirò fuori dalla tasca il portafoglio prese un libretto e lo porse a Megre era un documento di identità di quelli che vengono rilasciati agli stranieri residenti in Francia era scaduto sono andato in prefettura per rinnovarlo sul documento c'erano infatti la data di quel giorno e il nome Giuseppe Ambrosini nato a Milano di professione cameriere d'albergo non ha incontrato Harry Brown? io? e non l'aveva incontrato una prima volta martedì o mercoledì scorso? Giuseppe lo guardava sorridendo come se volesse dire ma che cosa le salta in mente? insomma Ambrosini non vorrà negare di essere l'amante di Sylvie dipende da cosa intende lei per amante mi è capitato dio mio no no lei è per usare un eufemismo il suo protettore povera Già Già non era mai stata così infelice in vita sua con tutto l'alcol che aveva in corpo non riusciva a vedere chiaramente le cose di tanto in tanto apriva la bocca come per mettere pace fra i due e si intuiva che aveva voglia di dire su ragazzi non litigate vale davvero la pena di prendersela tanto beviamo qualcosa insieme quanto a Giuseppe era evidente che quello non era il suo primo scontro con la polizia stava in guardia mantenendo un perfetto controllo di sé ma senza alcuna ostentazione l'hanno informata male e quindi lei ignora da dove arrivano questi 20.000 franchi li avrà guadagnati Sylvie immagino è una ragazza abbastanza bella per basta così il commissario si era alzato di nuovo e camminava su e giù per la piccola stanza Sylvie teneva lo sguardo fisso a terra Giuseppe invece non abbassava gli occhi prendi almeno un bicchierino gli disse già già cogliendo l'occasione per versarsi da bere Megre non si decideva per un lungo momento rimase fermo davanti alla sveglia che segnava le 6 e un quarto infine si voltò e disse bene seguitemi tutti e due siete in arresto Ambrosini rimase impassibile e si limitò a mormorare con una sfumatura di ironia come desidera il commissario si mise in tasca i venti biglietti da mille e porse a Sylvie la borsetta e il cappello vi dovrai mettere le manette a meno che non mi diate la vostra parola che non abbiamo nessuna intenzione di svignarcela stia tranquillo abbracciata a Sylvie che cercava di sciogliersi da quella stretta Giachà si inghiozzava e fu tutt'altro che facile convincerla a non accompagnarle fin sulla strada si accendevano le prime luci era di nuovo l'ora languida del tramonto passarono davanti alla via in cui si trovava l'hotel Beau Séjour ma Josef non lanciò neppure un'occhiata in quella direzione all'ufficio di polizia la squadra che aveva fatto il turno di giorno se ne stava andando il segretario si affrettò a far firmare le carte al commissario metta queste due persone in celle separate verrò sicuramente a vederle domani Sylvie si era seduta su una panca in fondo all'ufficio Josef cominciò ad arrotolarsi una sigaretta ma un agente indivisa gliela strappò dalle mani Megre se ne andò senza dire niente voltandosi ancora una volta verso Sylvie che non lo degnò di uno sguardo allora alzò le spalle e borbottò peggio per lei sprofondato in un sedile dell'autobus non si accorse neppure che la vettura era piena e che accanto a lui un'anziana signora era rimasta in piedi fumava rabbiosamente fissando attraverso il finestrino i fari delle macchine che passavano l'anziana signora dovette chinarsi mormorando mi scusi sembrò svegliarsi da un sogno si alzò precipitosamente cercando in vano dove buttare la ceneri incandescente era talmente confuso che una giovane coppia dietro di lui scoppiò a ridere alle sette e mezzo spinse la porta girevole dell'hotel Provençal dove trovò l'ispettore Boutigue che comodamente seduto in una poltrona della hall conversava con il direttore allora? è su in camera rispose Boutigue che sembrava preoccupato gli ha detto? sì non mi è parso sorpreso ero convinto che avrebbe protestato il direttore aspettava il momento buono per fare una domanda ma non appena aprì bocca il commissario si affrettò verso l'ascensore devo aspettarla? gridò Boutigue come vuole lo stato d'animo che da due o tre ore si era impadronito di lui gli era ben noto e si sentiva furioso come sempre gli accadeva in casi del genere tuttavia era incapace di reagire la sensazione confusa di commettere un errore una sensazione che lo accompagnava da quando aveva incontrato Sylvie sulla porta dell'albergo eppure c'era qualcosa che lo spingeva ad andare avanti peggio ancora era tanto più accanito in quanto voleva convincersi di aver ragione l'ascensore saliva con un sibilo di acciaio ben lubrificato e Maigret si ripetea ancora una volta quello che gli era stato raccomandato soprattutto non vogliamo grane era per questo che lui si trovava ad Antib per evitare chiacchiere e grane in circostanze diverse sarebbe entrato nell'appartamento di Brown senza la pipa invece l'accese apposta bussò ed entrò senza aspettare ritrovandosi nella stessa atmosfera del giorno prima anche adesso Brown andava da una stanza all'altra impeccabile dava ordine al segretario rispondeva al telefono e intanto finiva di dettare un cablogramma per Sidney permette un istante neppure un'ombra di nervosismo quell'uomo sembrava a proprio agio in qualunque situazione quella mattina mentre assisteva in circostanze tanto straordinarie al funerale di suo padre non era forse rimasto impassibile perfino la presenza delle quattro donne non l'aveva minimamente turbato e nel pomeriggio uscendo da quell'albergo equivoco non si era affatto scomposto non aveva avuto neanche un attimo di esitazione senza smettere di dettare Harry Brown posò una scatola di sigari sul tavolino di fronte a Maigret e premette il pulsante del campanello James porti il telefono nella mia camera e al cameriere prontamente a corso un whisky quanto c'era di spontaneo e quanto di artificioso in quell'atteggiamento questione di educazione pensò Maigret avrà studiato a Oxford o a Cambridge ecco riaffiorare l'antico rancore di uno che aveva frequentato lo Stanislaw un rancore tuttavia misto ad ammirazione signorina porti di là la macchina da scrivere ma vedendo la dattilografa impacciata dai fogli e dalle matite Brown sollevò la pesante macchina da scrivere la trasportò nella stanza vicina e chiuse la porta a chiave poi aspettò che tornassi il cameriere con il whisky e fece cenno di servirlo a Maigret quando furono soli tirò fuori di tasca il portafoglio e ne strasse un foglio di carta bollata vi gettò una rapida occhiata e lo porse al commissario legga conosci l'inglese? non molto è il documento che ho comprato per 20.000 franchi questo pomeriggio all'hotel Bossejour si sedette fu quasi un gesto di distensione innanzitutto ci sono alcune cose che devo spiegarle lei conosce l'Australia? peccato prima di sposarsi mio padre possedeva una proprietà molto vasta all'incirca come un dipartimento francese dopo il matrimonio diventò il più grosso allevatore di pecore di tutta l'Australia perché mia madre gli aveva portato in dote una proprietà quasi altrettanto vasta Harry Brown parlava lentamente sforzandosi di non dire niente di superfluo di essere chiaro lei è protestante? chiese Maigret sì come tutta la famiglia e come la famiglia di mia madre stava per riprendere il suo discorso ma il commissario lo interruppe suo padre non ha studiato in Europa vero? no ai suoi tempi non si usava è venuto in Europa solo dopo il matrimonio cinque anni dopo quando aveva già tre figli forse Maigret si sbagliava ma pazienza nella sua mente tutte quelle parole si traducevano in immagini appena abbozzate una casa immensa ma dall'aspetto severo in mezzo a terre sconfinate abitata da uomini austeri simili a pastori presbiteriani William Brown aveva ereditato l'azienda di suo padre si era sposato aveva avuto dei figli e si era sempre occupato soltanto dei suoi affari un giorno è stato costretto a venire in Europa per via di un processo da solo? si è venuto da solo era tutto così ovvio Parigi Londra Berlino la costa azzurra e Brown si era accorto che con la sua enorme ricchezza in quel mondo brillante e pieno di seduzioni era una specie di re e non è più tornato laggiù disse Maigret con un sospiro no ha voluto il processo andava per le lunghe l'allevatore di pecore trascinato da alcuni clienti aveva cominciato a frequentare i luoghi dove ci si diverte e aveva conosciuto delle belle donne nei primi due anni trovava sempre un pretesto per rimandare la partenza e laggiù chi lo sostituiva nelle direzioni degli affari mia madre e il fratello di mia madre abbiamo ricevuto lettere di gente del nostro paese che dicevano poteva bastare ormai Maigret ne sapeva anche troppo Brown che in tutta la sua vita aveva conosciuto soltanto le sue terre le sue pecore i suoi vicini e qualche uomo di chiesa si era dato alla pazza gioia godendosi tutti quei piaceri di cui fino ad allora non sospettava neppure l'esistenza continuava a rimandare il ritorno a casa lasciava che il processo andasse per le lunghe e una volta finito il processo aveva trovato nuovi pretesti per rimanere in Europa aveva acquistato uno yacht apparteneva a quella ristretta cerchia di persone che possono comprarsi tutto permettersi tutto sua madre e suo zio sono riusciti a farlo sottoporre a curatela sapevano difendersi laggiù agli antipodi avevano ottenuto la sentenza di inabilità e un bel mattino a Nizza o a Monte Carlo William Brown si era svegliato scoprendo che tutta la sua ricchezza si era ridotta a un assegno mensile per molto tempo ha continuato a fare debiti e noi abbiamo pagato disse Harry e poi avete smesso di pagare non proprio ho continuato a versargli l'assegno di 5.000 franchi al mese Maigret sentiva che c'era qualcos'altro avvertiva un vago disagio per cui chiese bruscamente che cosa è venuto a proporre a suo padre pochi giorni prima della sua morte scrutò attentamente il suo interlocutore ma Brown non si turbò affatto e rispose con la solita semplicità nonostante tutto mio padre aveva ancora dei diritti no? da 15 anni continuava a ricorrere contro la sentenza è un processo importante in Australia abbiamo 5 avvocati che si occupano solo di quello e nel frattempo viviamo in un regime provvisorio che ci impedisce di realizzare grosse transazioni un momento da una parte c'era suo padre da solo che viveva in Francia ma era rappresentato in Australia da avvocati che difendevano i suoi interessi avvocati con una pessima reputazione ovviamente dall'altra parte sua madre suo zio i suoi due fratelli e lei yes voglio dire sì e che cosa ha offerto a suo padre perché sparisse definitivamente dalla circolazione un milione in altre parole lui ci guadagnava visto che il suo assegno mensile era inferiore all'interesse che poteva ricavare da un milione di franchi investiti bene perché ha rifiutato per farci schiattare dalla rabbia lo aveva detto molto gentilmente non poteva certo sapere che quell'espressione faceva uno strano effetto sulle sue labbra era la sua idea fissa non voleva lasciarci in pace dunque suo padre ha rifiutato sì e mi ha annunciato che avrebbe fatto di tutto per procurarci dei fastidi anche dopo la sua morte quali fastidi il processo per noi in Australia questo processo è una vergogna c'era bisogno di altre spiegazioni bastava pensare al Liberty Bar a Gia Gia a Sylvie Mezzanuda a William che portava qualcosa da mangiare oppure alla villa alle due martini la giovane e la più anziana alla vecchia macchina con cui le accompagnava a fare la spesa e poi guardare Harry Brown che con i suoi capelli ben pettinati il suo abito impeccabile il suo sangue freddo la sua aria cortese ma un po' distaccata i suoi segretari rappresentava l'esatto opposto l'ordine la virtù la legalità per farci schiattare dalla rabbia adesso sì che la figura di William prendeva vita per tanto tempo era stato simile al figlio a tutti quelli di laggiù ma poi aveva rotto con l'ordine la virtù la buona educazione era diventato il nemico e perciò si era semplicemente provveduto a cancellarlo dalla famiglia e per Dio aveva anche il coraggio di opporsi sapeva bene che non l'avrebbe spuntata che ormai per loro era un reietto ma li avrebbe fatti schiattare dalla rabbia era capace di tutto pur di riuscirci li avrebbe fatti schiattare di rabbia la moglie il cognato e i figli che lo avevano rinnegato che continuavano a lavorare per guadagnare soldi sempre più soldi la moglie Grazie a tutti